E' stato trovato in possesso di 47 dosi di marijuana del peso complessivo di 114 grammi e della somma contante di 65 euro ritenuta a provento dell'attività illecita. Alessandro Caltabiano, 23 anni, arrestato ieri sera dalla polizia in Viale Grimaldi a Librino dopo un breve inseguimento terminato in Via del Maggiolino. Il giovane attenderà la direttissima ai domiciliari.